La situazione è brutta, nel senso che noi dobbiamo riscontrare una chiusura netta da parte della controparte su questioni importantissime, quali sono il salario, quindi gli aumenti salariali per i lavoratori, gli orari di lavoro, quindi la gestione dell'organizzazione del lavoro all'interno delle fabbriche e sulle assunzioni a tempo determinato. Sono questi i temi attorno a cui ruoterà lo sciopero generale del settore del legno. Arredo in programma il prossimo 21 febbraio a Pesaro, in Piazza delle Libertà. La decisione è arrivata dopo la rottura con Federlegno per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro scaduto il 31 marzo del 2019. Pesaro è il quarto polo italiano per importanza nel settore ed è una delle quattro location scelte insieme a Milano, Treviso e Bari per i cortei. La manifestazione pesarese sarà infatti interregionale, arriveranno nelle marche lavoratori anche da Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise e Lazio. Nella regione marchigiana il settore sta dando segnali di ripresa, anche se tante aziende, tra cui Berloni e De Corlegno, hanno chiuso i battenti, altre, specialmente chi lavora con l'export, hanno ripreso clienti e fatturati. Le retribuzioni del settore però sono mediamente più basse rispetto a quelli di altri comparti industriali e si attestano sui 22 mila euro all'anno. Aumentano inoltre i contratti a tempo determinato. L'occupazione in questi anni è un'occupazione soprattutto quella a tempo indeterminato stabile. Abbiamo assistito in questi ultimi anni a degli aumenti, ma aumenti di occupazione con contratti a tempo determinato e somministrazioni che complessivamente nei saldi positivi ammontano circa il 56%. Questo settore anche nell'ultimo anno ha fatto registrare più 1,2 rispetto agli anni precedenti in termini di fatturati. È chiaro che il settore è soggetto a una polarizzazione, nel senso che ci sono grandi realtà che vanno bene, fanno fatturati e fanno numeri, mentre ci sono piccole realtà che arrancano. Però è un dato di fatto che una qualche discontinuità dopo la crisi c'è stato, un qualche segnale di ripresa c'è stato e quindi noi dobbiamo cogliere le sfide che questo ci pone.